Esaminata la brocca dal maestro d'arri, dal maestro di campo e dai responsabili dei quattro gonfaloni, affinché nel dolo e con reticudine lo regolamento dell'opaleo sia stato osservato con interezza, noi, Giovanni Delibarzanti, gonfalonieri delle Contrade, decretiamo che nella terza edizione dell'opaleo dei balistari della Repubblica di Lucca risulta il terzo e migliore dello gonfalone delle Contrade, Bazzanti Giovanni. Guardi qui, guardi qui! Vai! Vieni la vostra scena! Allora, il secondo è il migliore dello gonfalone, Lino Alessia! Brava! Bravissima! Guarda qua, guarda qua! Vieni nel falcone! Vieni nel falcone con me! No, no! Allora, primo è il migliore su tutti, se lo gonfalone del Granchio, Tolomei Mauro! Scappella la freccia! Guarda qua, guarda qua! A morte! A morte! Tu va bene! Scappella la freccia, allora! Intanto l'opaleo sarà consegnato alle genti delle Contrade del Granchio! Grazie. Grazie. Facca, almeno di più, ci vede la faccia. Almeno di più. No, almeno di più. Hai vinto, sempre arrivato. Sì, va bene. Ma è storto. È storto. Deve essere storto. Tisano. Ci tirò io. Ci tirò io, il mio. Tirò di? Vai. Vai ora a corsa, andiamo. Si, vi voglio vedere a corsa, con cosa in mano. Si, con... Si fa un po' le strade. Per perdere.